E allora, numero 1, Amore Stecca, Alessandro Lezzo, numero 2, Aria Deventi, Antonio Grippi, numero 4, Alchemist B, Antonio Di Nardo, numero 5, Asdona, Giampaolo, Minucci. Tutti a rete. Macchina che accelera. Accelera. Parte piano, Amore Stecca. Cellotta allo stacco con Aria Deventi che rientra ad Asdora e si mantiene quindi al comando nei confronti di Alchemist B. Asdora che ripiega in terza posizione, più indietro, Amore Stecca. Così Aria Deventi può completare il primo quarto. Ora Antonio Grippi proverà a gestirne l'impeto. 400 che vanno nell'ordine del 29 per Aria Deventi che davanti alle tribune conduce nei confronti ancora di Alchemist B. Quindi Asdora e poi Amore Stecca che si è ricongiunto. 600 nell'ordine del 44 con 15 di frazione. Si va così lungo la piegata di destra con le posizioni che ovviamente non mutano. nonostante anche il ritmo imposto dalla battistrada. 800 in 59 ancora con un 15 di frazione. Intanto c'è l'errore per Amore Stecca e la conseguente squalifica. Ora prova a spostare per un attimo Asdora. Asdora, chilometro in 1.317 per Aria Deventi. Si fa vedere al suo esterno Alchemist B che guadagna nei confronti di Aria Deventi che deve essere sollecitata a questo punto con Alchemist che è molto incisivo. Quando si va a metà della piegata conclusiva, Alchemist che insiste, Aria Deventi che prova a replicare. Ma Alchemist è molto aggressivo quando si va all'ingresso in dirittura. Con Alchemist che rinnova i suoi attacchi, Aria Deventi che prova a sfuggire. Allora arriva Asdora che nel finale sembra poter mettere in campo uno spunto più fresco. Con Aria Deventi che deve soffrire negli ultimi metri il ritorno di Asdora. Ultimissime frazioni con Aria Deventi e incalzata da Asdora. Ma Aria Deventi che si salva da Asdora. in un 43 scarsi a chiudere, 1.567 ma più complicata del previsto. La corsa di Aria Deventi che però nel finale riesce comunque a resistere al ritorno di Asdora che alla fine giunge a mezza lunghezza dalla figlia di Redi Cash che in ogni caso si mantiene al primo posto. successo quindi per la portacolori della squadria Barbalbero. Per Aria Deventi e quindi il team che fa capo anche a Enrico Fiaschi. Bel successo con Antonio Greppi in sediolo davanti ad Asdora che ottiene un buon secondo posto e Alchemist B al terzo ma sicuramente in progresso 1.567. Grazie a tutti.